Succede a tutti di essere debilitati, di avere dei cali di pressione e soffrire di sbalzi di umore e sembra che in quelle situazioni solo il cibo possa rifocillare l'organismo. Spesso infatti questi sintomi dipendono dai livelli di glicemia, ossia la quantità di zucchero presente nel sangue. Fortunatamente ci sono dei cibi in grado di bilanciare la glicemia e quindi anche l'umore. E' sì un carboidrato complesso ma adatto essendo a digeribilità lenta al pari delle verdure per prevenire eventuali picchi glicemici nel sangue. Ok, forse non hanno un odore troppo invitante ma oltre che essere degli ottimi acceleratori per il metabolismo stabilizzano la glicemia e di conseguenza l'umore. Sono ottime e consigliate da tutti gli sportivi, saziano, sono leggere e prevengono il rischio di malattie cardiovascolari. Nonostante siano molto dolci non apportano quantità eccessive di zucchero nel sangue, anzi il loro indice glicemico è fra i più bassi della frutta in generale. E' consigliato quando ci si ritrova davanti un pasto carico di carboidrati. Condire le pietanze con un cucchiaio di aceto di sidro di mele ristabilizza i livelli di zucchero nel sangue e contribuisce a bruciare anche qualche caloria in più.